In un futuro ricominceremo a deliziare le varie città d'Italia con questi incontri. Per parlarvi della serata di stasera abbiamo Marco Gandolfi che è responsabile e rappresentante del brand Coiello. Non so se li avete visti appunto direttamente sul sito, se i vostri amici ve ne hanno parlato, anzi non amici, face amici o blogger, oppure avete visto magari da vari blogger queste iniziative, noi da circa un anno, un anno scarso diciamo, abbiamo iniziato con il brand Coiello, con i prodotti del brand Coiello a fare un tipo di comunicazione un po' diversa, diciamo da quello che generalmente si fa per un prodotto di largo consumo e per le marche più note insomma e abbiamo deciso di iniziare un percorso che sapevamo essere lungo, difficile e anche piuttosto con qualche ostacolo, di parlare alle persone e parlare anche sulla rete, cioè noi stiamo cercando di mettere in pratica un modo di comunicare a tutti voi, alle persone in generale di quello che si legge sui giornali, cioè sui giornali spesso quando si parla di internet, ah ecco adesso viene il modo in cui le grandi aziende prenderanno il dominio di internet, pareranno i loro messaggi eccetera, ecco questo è il modo che non vogliamo usare, ma in realtà vogliamo sfruttare quella che è la connessione, la relazione, il modo di stare in rete delle persone amici, cioè di sfruttare lo strumento, le modalità di comunicazione tipiche di internet per relazionarci, diciamo così, per entrare in contatto e perché no anche parlare di quelli che sono i nostri valori, di quello che è la nostra cultura come mondo della pasta e come mondo dei succhi e perché no anche come brand.